Io sono Susanna Singer e qui a fianco c'è Bernard Oberrauch. Assieme nel 2013 abbiamo fondato la Federazione per l'Economia del Bene Comune in Italia. Siamo tutti e due attivi su vari progetti all'interno della Federazione dell'Economia del Bene Comune in Italia. Stiamo realizzando con Italia che cambia, un progetto di collaborazione che a me e a Bernard Oberrauch sta molto a cuore e cioè noi consideriamo Italia che cambia un preziosissimo contenitore che contiene tantissimi progetti, iniziative, imprese, associazioni etiche e sostenibili in tutta Italia e avendo l'Economia del Bene Comune tantissime perle, tantissime buone pratiche da mostrare, riteniamo che questa preziosa e vantaggiosa collaborazione per entrambi possa dare visibilità a molti progetti dell'Economia e del Bene Comune. Pertanto abbiamo organizzato un tour in tutta Italia dove si è già ben radicata l'Economia del Bene Comune, Italia che cambia mostrerà le buone pratiche da Nord a Sud Italia dell'Economia del Bene Comune. Auguro a tutti noi tanto successo e un splendido lavoro di collaborazione.